Non siamo riusciti a fare la vittoria, ad avere la vittoria contro l'Olympic Salerno, anche se abbiamo schierato una squadra di giovani, continuiamo con questo progetto del rilancio della società con dei giovani e ogni partita il mister sta cercando di fare esordire qualche giovane del nostro settore giovanile. Siamo stati piuttosto sfortunati, sono partite che poi quando iniziano in un certo modo è difficile riprenderle. Comunque va bene così, faremo queste ultime quattro partite cercando di portare a casa qualche altro punto e sempre nell'ottica del rilancio di qualche giovane.